bella ragazzi bentornati in un nuovo video oggi siamo con la fede per rifare un altro troll a jackie che è una femmina alla fine però è un troll incredibile di rimorchiarla di fare finta però ovvio perché io non lo farei mai eccomi facciamo un po di box fight di box fight al freddo poi vieni al momento ne parti devo dire una roba è al freddo dovremmo fare che io inizio a rimorchiarla e tu dici no è mia è capito no 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 si 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 tu ci devi stare non ti preoccupa poi li trovo no a tutto punto finisco il troll fidati si oh viene più frigo no 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 dai 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 ti prego fallo per me fallo per il canale fallo per il contenuto no non farò fregato ok io faccio io ecco vai iniziamo inizia a raffreddare ma che dobbiamo fare beh è una box fight è una box fight perché io ti lascio stare dai guarda ti puoi devi brincare affetto tu non sai niente ok vabbè gioco ma tu quanti anni hai perché tu quanti anni hai eh no prima tu capito 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 cecchi 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 ma parla cosa eh ma dimmi cosa dimmelo te cioè dimmelo tu dimmelo prima tu no dimmelo prima se non ti dico 9 tu 10 io non sto scherzando ma io lo sapevo che ne avevi 9 perché se andate a scuola insieme in classe insieme è logico che come di più sì pensavo ne avessi come di più sì pensavo ne avessi vai ma c'è un ucciso vabbè c'è chi tu che scuola fai ma siamo strano lontani la madonna ma saranno un miliardo di chilometri perché tu di che città sei tu c'è in senso Milano ma che e di cosa sei no perché non posso dirti tutto eh no eh no dai ti dico ti dico ti dico ti dico la mia città e tu mi dici da tua tu sei a Napoli ok a Napoli e tu e dai e sono nel fiuli tra cioè sono nel fiuli eh la madonna no stai ferma a scuola sotto no ti difendo tieni no non ce la fai siamo nel cerchio no non devi difendermi perché se no sicuramente mi uccidi te lo dico uccidimi no perché non lo so ma uccidio ok allora stai fermi che ti posso dire cioè aspetta puoi venire nei passi un secondo aspetta vieni comunque c'è chi sono un po' bella ah 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 Sì, mi sono truccata per Halloween A me piace truccarmi Cioè, diciamo che è la mia passione Ma pure a me Cosa? In che senso? Truccami sulla... No, truccami a Halloween Metti le maschere No, no, e... Non so se si usano, ma che cosa che dici? Cioè, ma che schifo le maschere Io uso No, io... Tua madre, affredò Affredò Ma della roba che hai detto prima Stai scherzando, spero No Affredò, vieni un... Varti Eh no, vieni subito, affredò È importantissimo Sto prevedendo, sto prevedendo, fra Cosa? Quello che stai per dire Cioè, sto... Sto prevedendo quello che stai per pensare Un po' Vabbè Fai un party Vabbè, non è quello che stai per pensare Alfredo si sta scamando qua Deve andare subito sulla roba, oh Vabbè, vabbè Vabbè, c'è ti gioco Eccoci Eccomi Io sono un... No, non lo so Sono la fan di... 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 Di Jay Snow No, non sapete neanche chi è Non lo so, è quella di Aria di Danger Bravo Bravo Ma vabbè, sì, ma è figo, che ci posso fare, cioè Jackie, vieni... No Alfredo, voglio parti Vabbè, comunque Tu sei più figa di lui Oddio, raga Vabbè, vabbè, ti hai sentito, ho detto Tu sei più figa di lui Ho sentito Hai sentito... Hai sentito? Ho sentito, ho sentito io, ho sentito io, sei più figa di lui Ok Ok Adesso Sto facendo Comunque Tu sei più figa di Jay Snowman Regà, regà, regà 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 Oh regà Adesso il freddo non è venuto Nel party perché C'è perché non io l'ho detto Se no io lo dicevo Dai io Eccomi Io non sto capendo Di quello che stai pensando Cioè sto capendo ma non sto capendo Io non sto capendo niente Ok ecco Sì guardate possiamo Per favore andare a fare Sì non ti preoccupare Per favore Al freddo a vedere party Ok Al freddo io dico ti amo Ah Diretto diretto Il sole è più bello Ma regà Che sta venendo Che sta venendo Grazie Andiamo Aspetta Aspetta non uccidermi però Vai andiamo in chat di gioco Eccomi Eccoci Al freddo dimmi cosa sta succedendo No sta succedendo niente Non sto parlando Stavo parlando Veramente C'è chi Quando si fa così Se c'è rumore C'è niente Che 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 ha bastanto Ma voi che culo State facendo No Attento C'è la tempesta Devi scappare Ecco stiamo nel cerchio Aspetta Eh sì adesso Che cosa sto Vuole venire con me Sulla macchina Viene la fredda e parti Regà Regà Lo devo dire direttamente poi Ok Regà Ma io sto pensando seriamente Non sto Che cosa sto pensando Che cosa sto pensando Adesso mi hai fatto pensare a Jace E a Jace Norman Ma tu Capisci che Jace Norman è il figo del mondo C'hai capito Guarda i capelli Guarda tutto C'è Ma Ma che è spettato Che io non sto Va bene C'è chi Vabbè Te lo dico direttamente Ti amo Regà 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 Mi dissocio Regà Ma io lo sapevo Io prevedevo tutto Ma Ma io Il bello Che era tutto un troll Grazie Eh Per fortuna Ma tutto era così strano Ma No No Ma regà Ma regà Abbiamo fatto un troll Che Che Secondo me Ma Ma potete andare Vabbè Vabbè Ci vediamo alla prossima Regà Bella Un troll Boh Eh Che hai detto a fre Quindi quella roba che hai detto Non è vera Beh sì Non è vera Non è più vera Dio io ti adoro Dio tu sei la persona più bella del mondo Dio tu sei la persona più bella del mondo Dio tu sei la persona che mi ha Sì ma da Non sei la persona più bella del mondo Bella Ciao Bella regà Bella regà